Avevamo un ospite questa sera che non c'è più. Era un rappresentante che ci interessava molto avere qui del Movimento 5 Stelle. Allora io dico al rappresentante del Movimento 5 Stelle che non ha ritenuto interessante per lui venire questa sera perché era presente questa sera Filippo Facci, cioè un giornalista con nome e cognome, gli dico a questo rappresentante del Movimento 5 Stelle che a virus loro saranno sempre invitati, ma che in un servizio pubblico ma anche in un servizio privato chiunque faccia politica deve attenersi alle regole di tutti i politici. Di Irene Tinaldi che ha accettato il nostro invito, buonasera Irene Tinaldi, di Gianni Alemanno che è stato sindaco di Roma, presente l'amministratore delegato di McDonald's Italia e ovviamente Filippo Facci. E non ci sarà, su questo veramente bisogna essere chiari e lo dico senza nessuna ipocrisia, siamo uomini di mondo, i politici vogliono che si facciano strane combinazioni, alchimie, vogliono qualche tutela eccetera, ma sulle censure ai giornalisti non c'è veramente via l'uscita, chiaro?